Ah ecco, Francisetti, guarda, va bene, questo è Segoloni e questo è Francisetti, vediamo un attimo qui la situazione, allora Francisetti ha consegnato alla fine, e quindi, e quindi, Segoloni, Segoloni è il primo e Francisetti è il secondo. Allora, con punti 53 entrambi, Francisetti di Torino e Lorenzo Segoloni di Sesto San Giovanni. Purtroppo non è stato possibile differenziarli in altro modo se non tra il tempo di consegne. Va bene, in questo passiamo dietro.